film o serie tv? serie. film. libro cartaceo e book? cartaceo. libro. manga o fumetto americano? nessuno. fumetto americano. sushi o pizza? pizza. sushi. messaggi vocalisti o no? no. 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 caffè o tisanina? tisana. caffè. la tua comfort song al karaoke? il cobra della lettore. le mie canzoni. le mie canzoni.